Per mettere a coloro che questa sera in questo momento non possono essere collegati qui con noi di fruire di questo contributo ringrazio tutti i partecipanti in modo particolare ringrazio anche i relatori che questa sera ci parleranno di cambiamento climatico ed è il secondo questo il secondo incontro nell'ambito del ciclo sul cambiamento climatico il primo incontro si è svolto il 20 di maggio e ha riguardato gli impatti diretti e indiretti dei fenomeni legati al clima con particolare focus e attenzione nel territorio italiano questa sera l'argomento invece sarà orientato ai modelli matematici vi dico qual è il titolo cambiamento climatico dai modelli matematici al giardino di casa e avremo come relatori e ospiti il dottor Marco Gaetani che sarà il primo a intervenire ricercatore in meteorologia e climatologia che ci parlerà delle cause del cambiamento climatico e dei suoi effetti su scala globale il dottor Marcello Arosio ricercatore in valutazione dei rischi legata ai fenomeni idrogeologici che ci parlerà degli effetti che il cambiamento climatico ha sulle alluvioni e la dottoressa Beatrice Monteleone ricercatrice in meteorologia applicata all'agricoltura descriverà gli effetti del cambiamento climatico sul settore agricolo ecco mi fa molto piacere potere diciamo potere presentare gli ospiti di questa sera che vanno a ad arricchire quello che già abbiamo condiviso e vissuto nel precedente incontro con un focus particolare ecco anche a questi aspetti dell'agricoltura nel caso appunto dell'intervento della dottoressa Monteleone che è uno dei settori che risente maggiormente degli effetti dei mutamenti climatici che modificherà e che modificano la produttività delle coltivazioni così come degli effetti delle cause del cambiamento climatico e dei suoi effetti su scala globale e di quelli che sono di cui ci parlerà il dottor Marco Gaetani e mentre il dottor Arosio si soffermerà sull'aspetto delle alluvioni ricordo per per gli ospiti che hanno già partecipato e condiviso la scorsa allo scorso incontro con noi questo studio e condivisione che ci sarà la possibilità di intervenire lo faremo alla fine di tutte e di tutti e quattro gli interventi attraverso domande e risposte e preferirei così attraverso il veicolo delle domande e risposte perché riesco a gestire meglio tutti gli interventi che arriveranno la nostra scuola come sapete sul tema del cambiamento climatico si è impegnata in modo particolare infatti oltre a questo secondo ciclo di incontri che rafforza l'impegno della scuola si è resa promotrice di un corso di dottorato nazionale che sta per essere accreditato l'accreditamento dovrebbe concludersi entro la fine del mese e quindi presumibilmente si auspica di riuscire a partire con l'apertura del bando già dai primi di giugno per cui chi fosse interessato sappia che la scuola è diciamo un punto di riferimento coordina un dottorato nazionale al quale hanno aderito 30 università italiane in convenzione e su questo tema formerà formerà nuove professionalità quindi adesso do subito la parola per non prendere altro tempo rinnovo i ringraziamenti e do la parola al dottor Marco Gaetani ricercatore di meteorologia e climatologia prego Marco a te la parola grazie Anna grazie per dell'introduzione grazie anche per le parole che hai speso riguardo al dottorato appunto su sostenibilità e cambiamento climatico che partirà l'anno prossimo coordinato dall'UJUS a livello nazionale che includerà altre trenta università su tutto il territorio nazionale e ringrazio soprattutto tutti da parte i miei colleghi panelist anche tutti quelli che sono intervenuti a questo incontro allora comincio intanto dividendo il mio schermo visto che ho preparato una presentazione e spenderò anche comincerò appunto spendendo due parole intanto sul titolo che abbiamo scelto perché oggi appunto parleremo essenzialmente di cambiamento climatico scusate sì allora appunto parleremo di cambiamento climatico e degli impatti del cambiamento climatico essenzialmente io introdurrò diciamo gli impatti a livello globale e poi i miei colleghi parleranno degli impatti un po' più specifici riguardanti per esempio il rischio idrogeologico e l'agricoltura come ha già introdotto introdotto Anna abbiamo scelto questo questo titolo perché volevamo mettere in evidenza il fatto che il cambiamento climatico è diventato negli ultimi anni e sta diventando sempre di più un tema di grande attualità non solo nell'agenda diciamo della ricerca scientifica ma anche nell'agenda politica e anche se vogliamo in qualche modo nella vita quotidiana di tutti noi quando in realtà si parla di cambiamento climatico ormai da 30 quasi 40 anni perché i primi per esempio l'istituzione dell'IPCC che è il panel internazionale sotto legge da delle nazioni unite che si occupa appunto di studiare e di mettere insieme tutta la conoscenza scientifica riguardo al cambiamento climatico è stato istituito nel 1988 noi siamo quindi dopo quasi 40 anni 35 anni più o meno siamo passati a un come dire una visione di questo problema che era quasi esclusivamente accademica a quel tempo ed era marginale rispetto all'agenda politica perché comunque era si parlava di proiezioni per la fine del secolo questa visione sta cambiando sfortunatamente perché le previsioni fatte 30 anni fa si stavano diciamo cominciano quindi il tempo è passato le previsioni si stanno lentamente ma inesorabilmente avverando e perché appunto gli impatti del cambiamento climatico cominciamo a vederli anche un po' nella nostra vita quotidiana quindi se vogliamo nel giardino di casa e quindi siamo passati da un da un tema che poteva essere definito quasi accaduto un tema appunto di grande di grande attualità per comprendere questi impatti quindi occorre comprendere il cambiamento climatico comprendere gli strumenti che utilizziamo per appunto la comprensione del cambiamento climatico e le previsioni climatiche che facciamo e quindi io mi occuperò in questa in questa mia breve intervento di descrivere un po' i concetti alla base delle scienze del clima gli strumenti essenziali che noi utilizziamo per la comprensione del clima che sono appunto i modelli matematici e introdurrò gli impatti a livello globale e poi lascerò la parola ai colleghi per degli impatti più specifici allora cominciamo con alcune definizioni che ci torneranno utili nel corso di questo webinar cominciando da alcune definizioni che possono sembrare ovvie ma che spesso in realtà non lo sono per quello che riguarda per esempio il grande pubblico anche i mezzi di informazione spesso fanno un po' di confusione su alcuni su alcuni concetti basi che sono quelli che riguardano la meteorologia e la climatologia per esempio qual è la differenza tra meteo e clima queste sono definizioni diciamo di base che ci servono per comprendere il cambiamento climatico il meteo sono le condizioni atmosferiche che noi possiamo osservare in questo momento ognuno di noi nel proprio nel luogo in cui si trova in questo momento può osservare il tempo fuori dalla finestra che sarà diverso o sarà diverso a seconda dei luoghi in cui ci troviamo e questa appunto è la condizione atmosferica che noi definiamo quindi il meteo il clima in realtà è qualcosa che caratterizza il posto in cui ci troviamo su scale temporali più lunghe sono quelle che noi chiamiamo le condizioni meteorologiche medie per farvi un esempio se noi per esempio consideriamo un ambiente desertico come potete vedere in questa fotografia un ambiente di questo tipo sarà ovviamente caratterizzato da condizioni prevalentemente molto calde e molto secche che non consentono quindi lo sviluppo di vegetazione e il mantenimento per esempio di laghi o corsi d'acqua ma questo non impedisce che un luogo caratterizzato da queste condizioni meteo medie quindi climatiche non impedisce il fatto che in un deserto possa piovere o possa addirittura nevicare come potete vedere in questa immagine molto interessante del deserto del Sara che è stato interessato nel dicembre del 2016 da un'importante nevicata quindi quello che noi osserviamo è che a sinistra abbiamo delle condizioni prevalenti delle condizioni medie che caratterizzano questo tipo di ambiente e sulla destra delle condizioni che sono invece possibili anche in un ambiente desertico ma evidentemente più rare e questo ci porta un po' alla definizione un po' più quantitativa di clima che noi possiamo fare che si basa su diciamo su concetti più quantitativi che sono essenzialmente concetti statistici cioè noi definiamo il clima come la probabilità di osservare la probabilità in un determinato luogo di osservare un evento meteorologico come tipo di esempio possiamo fare quello per esempio della temperatura in qualsiasi luogo se questo se noi immaginiamo di misurare la temperatura in un luogo e diciamo durante tutto l'anno durante un periodo molto lungo che può essere di diversi anni anche di qualche decina di anni decina di anni quello che vedremo è che la maggior parte il numero delle osservazioni quindi la probabilità maggiore che osserveremo rappresenterà la temperatura media di quel luogo cioè la media della temperatura sarà rappresentata dalla probabilità più elevata di osservare quella temperatura se noi guardiamo questa curva noi vedremo che per esempio le anomalie calde o le anomalie fredde saranno caratterizzate da una probabilità inferiore significa che quel posto sarà osserveremo meno giorni più caldi o più freddi della media rispetto appunto alla media e poi avremo delle probabilità molto basse di avere dei giorni estremamente caldi o dei giorni estremamente freddi e questi sono quelli che noi chiamiamo gli estremi della distribuzione quindi sostanzialmente il clima in quella regione sarà definito dalla media sostanzialmente che sarà appunto la probabilità di avere quel valore di temperatura la probabilità più alta di avere quel valore di temperatura ma anche dalla variabilità noi definiamo la variabilità come la distanza sostanzialmente tra le anomalie calde e le anomalie fredde o tra gli estremi caldi e gli estremi freddi e questa è la definizione più quantitativa e operativa di clima per una volta data questa definizione noi possiamo anche stabilire come il clima possa cambiare come possiamo definire il cambiamento climatico il cambiamento climatico si definisce essenzialmente come un cambiamento significativo nella statistica climatica di una particolare regione o di un particolare luogo questo si può presentare in diverse maniere per esempio di nuovo prendendo quella che si chiama appunto la funzione di distribuzione di probabilità in questo caso per esempio per la temperatura se questo è il clima che noi osserviamo che siamo abituati a osservare in quel luogo il cambiamento climatico può presentarsi come semplicemente un cambiamento nella media se ricordate quello che ho detto appena adesso la media è rappresentata praticamente dalla probabilità più alta di osservare un certo valore della temperatura se questa media si sposta tutta la distribuzione si sposta e questo è un cambiamento significativo del clima perché appunto la media si sposta un altro tipo di cambiamento climatico può essere per esempio un cambiamento in cui la media non si sposta ma cambia la variabilità cioè per esempio cambia la distanza tra le anomalie calde e le anomalie fredde e gli estremi caldi o gli estremi freddi un altro tipo di variabilità climatico quindi di cambiamento climatico può essere un cambiamento in cui sia la media sia la variabilità cambiano quindi abbiamo uno spostamento uno spostamento verso valori mediamente più caldi e anche un allargamento di quella di questa campana di questa funzione di distribuzione la conseguenza di questo tipo di cambiamenti è che per esempio in un caso come quello se questo è il clima che noi siamo abituati a osservare a casa nostra nel giardino di casa nostra questi valori qui che noi consideriamo molto caldi e che però hanno nel clima appunto a cui siamo abituati hanno dei valori molto bassi in un cambiamento climatico di questo tipo in cui la media e la variabilità cambiano noi vediamo che la probabilità di avere dei valori di temperatura molto alti cresce sensibilmente e soprattutto alcuni valori di temperatura che non erano che erano virtualmente impossibili nel clima nel clima prima del cambiamento possono diventare possibili e questo vedremo che tipo di conseguenze potrà avere queste sono appunto le possibilità di diciamo questo è il modo in cui noi definiamo quindi il cambiamento climatico cioè un cambiamento significativo nella statistica del clima cosa è successo negli ultimi cento anni a livello globale è successo quello che effettivamente abbiamo visto nella slide precedente effettivamente quello che noi abbiamo osservato a livello globale è stato essenzialmente negli ultimi cento anni ma anche negli ultimi ormai centocinquanta centosessant'anni quindi grossomodo a partire dal milleottocentocinquanta noi abbiamo osservato per esempio un incremento significativo della temperatura media del pianeta noi siamo passati allora questa qui è una anomalia rispetto a un periodo di riferimento di trent'anni che va dall'86 al 2005 quindi questa qui appunto sono valori di anomalia rispetto alla media di questo periodo ma insomma quello che si vede molto bene quindi questi non sono valori sotto lo zero della temperatura ma appunto sono anomalie negative rispetto a questo periodo in ogni caso quello che si vede è un aumento se vogliamo monotono della temperatura dall'inizio del secolo scorso ormai fino ad oggi un aumento sensibile che è arrivato quasi a un grado questo è lo stesso grafico però aggregato per decadi sostanzialmente altre cose che noi abbiamo osservato a livello globale è stata per esempio la riduzione della copertura dei ghiacci artici nel periodo estivo e anche qui c'è stato un progressivo dal 1900 a oggi c'è stata una progressiva diminuzione di questa estensione mentre i ghiacci antartici sono rimasti piuttosto stabili anche se in effetti anche in questo caso si è osservato si comincia a osservare una progressiva instabilità anche della calotta artica diciamo della banchisa antartica scusate in questo caso ed è quello che si è osservato anche è stato un sensibile aumento del livello del mare dal 1900 quindi dall'inizio del secolo scorso fino al 2010 e anche oltre un aumento sensibile che è stato di circa una ventina di centimetri come vedete in questo grafico questo qui è quello che quindi questo è quello che è avvenuto a livello globale quello che è avvenuto a livello locale se vogliamo è stato che per esempio dal 1901 al 2012 la temperatura è effettivamente aumentata su tutto il globo seppure con una certa eterogeneità queste crocette che vedete qui nel grafico rappresentano giustamente come abbiamo detto prima un cambiamento significativo della statistica della temperatura sostanzialmente su tutto il globo per esempio qui c'è stato in effetti l'unico luogo nel mondo dove c'è stato in realtà un raffreddamento è l'Atlantico del Nord dove però come potete vedere noi questo raffreddamento non possiamo considerarlo come un cambiamento climatico perché in questo luogo appunto non c'è stato un cambiamento significativo statisticamente significativo della media della temperatura quindi questa figura ci mostra effettivamente un riscaldamento globale che è avvenuto nell'arco di cento e passa anni per quello che riguarda la precipitazione il quadro è un po' più complesso il quadro è un po' più eterogeneo non c'è stato un cambiamento globale che vada nello stesso segno quindi in un segno o di cambiamento positivo o di cambiamento negativo come per la temperatura e soprattutto anche qui i segnali sono meno diciamo un cambiamento statisticamente significativo è avvenuto solo in alcune regioni e non a livello globale questo perché la precipitazione è qualcosa che risponde in maniera più complessa ai cambiamenti climatici ma questo poi lo vedremo più avanti parallelamente a questo quindi a questo aumento della temperatura globale all'aumento del livello dei mari abbiamo anche osservato per esempio l'aumento dei gas dei cosiddetti gas serra che sono essenzialmente la CO2 la nitide carbonica il metano e l'N2O questi gas serra sono aumentati queste sono stime che partono dal 1750 e che mostrano un aumento sostanzialmente monotono della concentrazione di questi gas serra in atmosfera di tutti e tre questi gas serra e quello che noi abbiamo anche osservato è che in particolare per la CO2 l'aumento della CO2 è essenzialmente legato alle attività umane alle attività industriali che sono le attività umane che appunto sono seguite alla rivoluzione industriale quindi della metà del 1800 e che sono andate progressivamente quindi con lo sviluppo dell'economia con l'aumento della popolazione le emissioni di CO2 che provengono appunto dall'attività industriale e dall'attività umane in genere sono aumentate queste sono le emissioni in questo caso in gigatonnellate di CO2 per anno per anno dal 1850 al 2000 questo vedete che è un apporto di CO2 in atmosfera che è andato crescendo dal 1850 fino ai giorni nostri l'effetto serra credo che sia qualcosa che tutti con i quali abbiamo tutti familiarità ma insomma vale la pena spendere due parole per ricordare qual è l'effetto appunto dei gas serra i gas serra sono essenzialmente appunto la CO2 la nitide carbonica il metano ma anche il vapor d'acqua hanno la capacità di essere trasparenti alla luce solare che arriva e che riscalda la superficie ma in qualche modo trattengono io qui assorbono l'ho messo tra virgolette perché in realtà quello che succede è che la radiazione termica che viene riemessa dalla superficie riscalda questi i gas serra presenti in atmosfera che riemettono in parte verso lo spazio ma in parte anche verso di nuovo verso la superficie sostanzialmente tenendo calda la superficie allora i gas serra di per sé sono componenti essenziali dell'atmosfera che fanno in modo che la temperatura sulla superficie del pianeta sia confortevole per lo sviluppo della civiltà se vogliamo ma ovviamente per esempio aumentando la CO2 in atmosfera quello che facciamo è aumentare appunto la temperatura alla superficie del pianeta allora quindi noi abbiamo queste evidenze abbiamo osservato queste evidenze negli ultimi cento anni l'aumento della temperatura lo scioglimento dei ghiacci l'aumento del livello del mare e l'aumento della CO2 questo ci basta per dire che l'aumento della CO2 è causa del riscaldamento globale? la risposta è sì perché noi conosciamo l'effetto della CO2 sulla radiazione solare la radiazione termica quindi l'effetto che diciamo che la CO2 ha sul riscaldamento della superficie quindi sul riscaldamento dell'atmosfera ma è pur vera che noi sappiamo anche che il sistema climatico è un sistema molto più complesso in cui non ci sono solo i gas serra ma ci sono tutta una serie di quelle che noi chiamiamo le forzanti climatiche perché innanzitutto il clima è essenzialmente regolato dalla radiazione solare ma poi oltre ai gas serra ovviamente ci sono per esempio la presenza delle nubi le condizioni alla superficie le attività umane ovviamente che influenzano i gas serra l'oceano quindi è è un sistema complesso di interazioni nel quale non è semplice stabilire chi fa cosa quindi stabilire nozioni di causa-effetto perché bisogna appunto bisogna sempre stare molto attenti perché di fatto una correlazione quindi tra variabili che crescono come potessero essere variabili climatiche e la CO2 non implica per forza una una nozione di causalità in questo le correlazioni possono essere semplicemente spurie vi invito a visitare questo sito in cui si trovano informazioni simpatiche per esempio questo qui è la correlazione tra il consumo di carne negli Stati Uniti e le morti causate dai fulmini la correlazione in questo caso è molto alta è l'87% ma in realtà questa è una correlazione del tutto casuale se andate su questo sito potete calcolare correlazioni di variabili di serie temporali le più varie vedrete che si trovano delle cose molto divertenti ci sono altri tipi di correlazioni quindi ci sono correlazioni del tutto casuali o correlazioni per esempio legate al fatto che due variabili sono legate a una terza variabile questa per esempio è la stagionalità tra il consumo dei gelati e degli attacchi degli squali non c'è relazione tra queste due variabili evidentemente il fatto che tutte e due queste variabili abbiano un picco in estate dipende dal fatto che in estate fa caldo e quindi si consumano più gelati ma si va anche di più in spiaggia e quindi la probabilità purtroppo di essere attaccati da uno squalo cresce quindi quello che serve per stabilire questo nesso è un un nesso di causalità cioè dobbiamo mostrare che ci sia un'evidenza di questo meccanismo per fare questo ci chiediamo aiuto a Galileo Galilei che ha messo le basi appunto del metodo scientifico in cui sostanzialmente noi osserviamo un evento un fenomeno che è appunto l'aumento della CO2 e il riscaldamento globale che è quello che abbiamo osservato negli ultimi cento anni facciamo l'ipotesi perché noi conosciamo un meccanismo fisico che riguarda appunto l'aumento della CO2 che causa il riscaldamento globale e dobbiamo però fare per dimostrare che ci sia che ci sia evidenza di questa ipotesi dobbiamo fare dobbiamo avere un esperimento che sia riproducibile quindi in teoria dovremmo aumentare la CO2 e misurare la temperatura ovvero prendere la CO2 come era nel 1850 cioè 280 parte per milione fare una serie di esperimenti sul pianeta Terra perché gli esperimenti ovviamente devono essere riproducibili e misurare la temperatura fare la stessa cosa con la concentrazione di CO2 nel 2021 che è a 416 parti per milioni ripetere l'esperimento diverse volte misurare la temperatura e fare il confronto evidentemente questo non si può fare perché noi non abbiamo un laboratorio abbastanza grande per riprodurre questi esperimenti però abbiamo degli strumenti che ci consentono di risolvere questo problema perché abbiamo i modelli climatici i modelli climatici sono sostanzialmente è la descrizione del sistema climatico nelle sue componenti principali che sono essenzialmente la dinamica atmosferica la temperatura e diciamo tutte le sue componenti questo è essenzialmente un un modello è uno strumento che ci permette date delle condizioni iniziali di descrivere l'evoluzione del sistema in dipendenza soprattutto da quelle che noi chiamiamo le forzanti cioè le forzanti che possono essere sono quelle che guidano sostanzialmente la dinamica del sistema che possono essere forzanti naturali come per esempio l'attività solare la radiazione solare le eruzioni vulcaniche per esempio ma anche le forzanti antropiche quando abbiamo messo questi ingredienti dentro il modello quello che otteniamo è appunto l'evoluzione del clima che noi possiamo appunto possiamo descrivere quante volte vogliamo perché possiamo fare diversi esperimenti e appunto trovare diverse evoluzioni a seconda di come possiamo cambiare le condizioni iniziali o le forzanti e quindi possiamo usare i modelli per per esempio fare un primo esperimento in cui consideriamo solo le forzanti naturali del clima quindi per esempio la CO2 come era prima della rivoluzione industriale a 280 milioni e fare una serie di esperimenti con il risultato di avere appunto il clima quindi la descrizione del clima prima dell'aumento della CO2 poi faremo un secondo esperimento una seconda serie di esperimenti in cui il nostro modello sarà forzato dalle forzanti naturali quindi di nuovo attività solare eruzioni vulcaniche eccetera e soprattutto e aggiungiamo possiamo aggiungere le forzanti antropiche quindi per esempio l'aumento della CO2 dai 280 parti per milioni come era prima della rivoluzione industriale fino alle 416 parti per milioni come osserviamo nel 2021 e quindi avremo una serie di esperimenti che ci diranno come ci descriveranno come il clima risponde all'aumento della CO2 e il risultato è questo allora in questo grafico qui voi vedete l'aumento della temperatura osservato ed è la linea nera che vedete quindi dal 1900 fino agli anni 2000 e vedete l'aumento della temperatura ebbene se voi simulate il clima senza considerare l'aumento della CO2 avvenuto negli ultimi 100 anni quello che otterrete sarà un clima che è dato da questa banda chiara da un clima che sarà sostanzialmente stabile ok perché di fatto voi avete descritto l'andamento del clima considerando tutte le forzanti senza considerare l'aumento della CO2 e quindi il vostro clima rimarrà stabile su una temperatura di equilibrio che è quella che aveva sostanzialmente all'inizio quindi prima della rivoluzione industriale l'unica maniera per simulare l'aumento di temperatura e quindi il cambiamento climatico che stiamo osservando essenzialmente negli ultimi 50 anni è includere l'aumento di CO2 dai 280 parti per milioni fino alle 416 parti per milione che osserviamo oggi e questo è il risultato e quello che vedete in questa banda più scura queste sono le simulazioni dei modelli climatici che tengano conto dell'aumento della CO2 e questa è l'unica maniera per simulare correttamente le osservazioni e questo sostanzialmente è l'esperimento che ci consente di determinare che il cambiamento climatico ha effettivamente una causa antropica ovviamente noi una volta che abbiamo dimostrato appunto attraverso i modelli climatici che il cambiamento climatico è causato dalle attività umane possiamo anche utilizzare i modelli per immaginarci un clima nel futuro e quindi daremo le condizioni iniziali a partire da oggi e cercheremo di immaginare quali saranno le forzanti del clima naturali e antropiche e simulare il clima del futuro per quello che riguarda le forzanti naturali quello che facciamo di solito è innanzitutto l'attività solare possiamo più o meno prevederla come sarà nei prossimi 100 anni o 200 anni le eruzioni vulcaniche non possiamo prevedere quando avverranno esattamente ma possiamo prevedere quante eruzioni vulcaniche possiamo attenderci nei prossimi 100-200 anni e questo è per quello che riguarda le forzanti naturali per quello che riguarda le forzanti antropiche quello che si fa è essenzialmente immaginare quello che sarà lo sviluppo nei prossimi 100 anni e quali saranno le emissioni conseguenti a questo sviluppo e gli scenari che vengono utilizzati per simulare il clima del futuro sono essenzialmente uno scenario che chiamiamo business as usual significa uno scenario in cui le emissioni continueranno a crescere che è questa linea rossa queste sono le emissioni di anidride carbonica uno scenario in cui le emissioni si stabilizzeranno a un certo punto uno scenario in cui avremo una riduzione ma non a zero e uno scenario quello più ottimistico che è lo scenario di zero emissioni in cui questi sono vecchi scenari quindi le zero emissioni erano previste intorno al 2060 70 con gli accordi di Parigi le zero emissioni dovrebbero diciamo è auspicabile che le zero emissioni arrivino al 2050 quindi uno scenario in cui a un certo punto le emissioni andranno a zero quindi avremo una società che è decarbonizzata un'economia decarbonizzata queste sono quello che ci aspettiamo nel futuro mettendo a confronto gli scenari per esempio più estremi quindi quello con zero emissioni e quello con business business as usual cioè emissioni che continuano a crescere come potevete vedere in uno scenario in cui le emissioni continuano a crescere crescere ci aspettiamo un aumento della temperatura alla fine del secolo anche fino a oltre 5 gradi uno scenario di zero emissioni porterebbe a un contenimento del riscaldamento a solo un grado oltre il livello preindustriale porterebbe anche alla stabilizzazione per esempio della superficie dei ghiacci artici in questo caso mentre uno scenario business as usual prevederebbe sostanzialmente la scomparsa della galotta artica e anche qui possiamo vedere per esempio la differenza dell'innalzamento del livello del mare nel caso nei due casi e nel caso business as usual potremmo anche arrivare alla fine del secolo a un metro di innalzamento del livello del mare con delle conseguenze piuttosto importanti e questo per esempio è invece la risposta della acidificazione degli oceani in cui un pH in decrescita significa sostanzialmente un aumento dell'acidificazione questo è quello che avviene ci aspettiamo a livello globale ovviamente in tutti e due scenari esistono delle eterogeneità dal punto di vista geografico nel senso che ci aspettiamo per esempio un aumento della temperatura soprattutto nell'emisfero nord rispetto all'emisfero sud ma in ogni caso nello scenario business as usual ci aspettiamo un riscaldamento appunto globale con punte anche fino a 9 gradi oltre le temperature che conosciamo oggi in pratica che cosa significa il cambiamento climatico per esempio il riscaldamento globale in pratica significa che oltre a cambiare la media e qui ritorniamo un po' alla definizione del cambiamento climatico che abbiamo dato all'inizio se questo per esempio è la media delle temperature nell'emisfero nord negli anni dai 50 agli anni 80 quello che si vede è che si vede una campana piuttosto simmetrica in cui vediamo appunto le anomalie di temperature quindi qui la media è messa a zero significa che questi sono i valori quindi sono le anomalie rispetto alla media che ci aspettiamo sostanzialmente si vede che questa zona rossa e questa zona blu corrispondono alle anomalie calde e fredde che siamo abituati a osservare nell'emisfero nord e questo 0.1% riguarda l'estremo questa sarebbe la probabilità di osservare delle temperature estreme tra i 4 e i 5 gradi oltre la media ok? queste sono le cosiddette ondate di calore quello che si è verificato tra il 1990 e il 2000 è uno spostamento della della media rispetto diciamo verso valori più alti che ha portato appunto a un aumento della probabilità di avere anomalie calde cioè quelle che per noi adesso sono anomalie calde dal 33 al 58% e soprattutto una probabilità di avere delle ondate di calore che prima era al 0.1% quindi anomalie tra i 4 e i 5 gradi cioè scusate tra i 3 e i 5 gradi è passata dal 0.1 al 5% negli ultimi anni questa probabilità è passata al 22% significa che sostanzialmente quello che negli anni 50 era considerato erano considerate temperature estreme stanno diventando temperature più normali durante l'estate anche per concludere con la precipitazione la precipitazione le previsioni riguardo la precipitazione sono più eterogenee sia dal punto di vista geografico e soprattutto in generale ci attendiamo salvo alcune zone dove comunque il segnale è piuttosto robusto ci attendiamo in generale non ci attendiamo un cambiamento delle precipitazioni globali quello che ci attendiamo è piuttosto un cambiamento dei regimi di precipitazione allora questa è una figura che ho fabbricato io per illustrare un po' il problema se questo è la precipitazione nel clima presente questo potrebbe essere un mese qualsiasi in cui ci sono alcuni eventi di precipitazione queste sono le intensità della precipitazione raggruppate per eventi quello che noi ci aspettiamo è che in realtà che la stessa precipitazione sia concentrata in eventi più brevi e quindi in eventi più intensi perché sostanzialmente quello che ci aspettiamo appunto che la precipitazione di questo evento qui per esempio che avveniva in quattro giorni avvenga in due giorni quindi la conseguenza è che ci aspettiamo un aumento degli eventi intensi e anche un aumento delle serie secche perché la distanza tra gli eventi cresce se lo guardiamo dal punto di vista per esempio del cambiamento della distribuzione se questa per esempio è la frequenza dei giorni secchi relativa a questo grafico e questa è la frequenza degli eventi più intensi quello che noi ci aspettiamo nel futuro è che aumentino sia che aumenti sia la frequenza dei giorni secchi e quindi la possibilità di siccità sia la probabilità di eventi più intensi e qui a questo punto io mi fermo e lascio la parola ai colleghi Marcello Aroso che ci parlerà appunto delle conseguenze dell'aumento degli eventi intensi e a Beatrice Monteleone che invece ci parlerà della conseguenza dell'aumento degli eventi di siccità vi ringrazio per l'attenzione grazie Marco grazie davvero condivido lo schermo perfetto credo lo vediate giusto? sì perfetto perfetto grazie mille buonasera a tutti io parto dalle considerazioni che ci ha appena raccontato Marco per vedere come questi cambiamenti che giustamente Marco raccontava a livello statistico avvengono su un arco temporale ampio e un arco spaziale grande come in realtà questo poi possa incidere su cambiamenti visibili e tangibili che tutti noi quotidianamente possiamo notare in maniera anche significativa quindi la statistica è sicuramente un modo per rappresentare quello che ci accade però poi gli eventi che osserviamo sono sicuramente più di impatto più forte a dare concretezza al fatto che il clima effettivamente sta cambiando in particolare nella mia breve presentazione cercherò di focalizzarmi solo su uno degli aspetti che è quello legato a in particolare alle alluvioni e quindi all'aumento significativo in alcuni casi precipitazioni intense ma questo lo vedremo vediamo se funziona perfetto la cosa con cui volevo iniziare è sicuramente il fatto che l'aumento del rischio è già iniziato porto qui una frase presa dall'analisi del rischio dei cambiamenti climatici in Italia condotta dal CMCC lo scorso anno in cui è scritto i numeri sono già in crescita per quanto riguarda gli eventi estremi la probabilità del rischio è aumentata nel 9% negli ultimi 20 anni qui ci sono due concetti che nei prossimi 10 minuti vorrei trattare evento estremo sono quelle caratteristiche che nella presentazione precedente vedevamo agli estremi di quella curva a forma di campana quindi estremo destro estremo sinistro quindi non ci interessa tanto guardare la media la punta in alto della campagna ma ci interessa guardare la parte estrema destra e estrema sinistra in particolare nel caso delle alluvioni è l'estremo destro di quella curva campana che sono le precipitazioni l'altro termine importante sicuramente che compare in questa frase è il termine rischio finora abbiamo parlato di come il clima cambia inteso come pericolosità inteso come temperature che cambiano precipitazioni che cambiano forme in cui le grandezze climatiche meteorologiche si manifestano ma quello che che poi di fatto crea un danno a noi è ovvero il rischio che è la combinazione di questi tre fattori sicuramente un pericolo che cambia quindi la probabilità quella forma a campana che cambia la probabilità che avvenga un determinato clima un determinato meteo che per noi è diciamo un po' una delle forzanti però questo poi deve andare a interagire con qualcosa di esposto quindi noi che viviamo in questo pianeta in questo clima e noi che siamo più o meno vulnerabili a queste condizioni climatiche quindi in sé il fatto che il clima cambi per la terra non è un rischio in sé è un rischio per noi che siamo esposti a questo clima e siamo vulnerabili a un determinato cambiamento non per forza siamo vulnerabili a tutte le forme di cambiamento ma alcuni nostri settori per esempio qualche settore agricolo o le nostre città rispetto alle nostre campagne potrebbero essere più vulnerabili a questi cambiamenti quindi andando nello specifico guardando un po' come il rischio idrogeologico in Italia viene osservato è già stato osservato e i scenari di cui parlava Marco sono proiettano questi cambiamenti per il futuro vediamo sicuramente un aumento fino al 5% è uno scenario peggiore quando si parla di scenario qui dobbiamo ricordare quei 4 scenari di cui la presentazione prima ci raccontava lo scenario peggiore è quello in cui business as usual porterà a un aumento di 5 gradi la temperatura media questo porterà quindi a uno scioglimento delle nevi di ghiaccio e quindi anche del permafrost e tutto questo ha un aumento del dissesto dei fenomeni idrogeologici ma in particolare questo per quanto riguarda la temperatura ma se guardiamo invece le piogge intense vediamo su tutta l'Italia una tendenza all'aumento degli eventi estremi poi ritorneremo una quindi una caduta dell'acqua una precipitazione dell'acqua molto concentrata e questo inevitabilmente porta a un aumento del rischio alluvioni in particolare questa è una criticità che osserveremo sempre di più nelle nostre città nei terreni urbanizzati questo perché l'urbanizzazione gioca un ruolo importante nel processo di creazione dell'onda di piena di allagamento quindi non solo la pioggia che cade ma anche alcuni comportamenti nostri che cambiano la nostra propensione ad osservare dei fenomeni di allagamento quindi sempre focalizzandoci sul territorio italiano vediamo come per quanto riguarda le precipitazioni accumulate durante un anno si vede una diminuzione di queste precipitazioni nel periodo estivo e un aumento principalmente questo nel sud quindi ci aspettiamo un sud dove avremo nell'arco dell'anno minor precipitazione e un aumento di precipitazione invece al nord e nel periodo invernale infine come già sottolineato in precedenza un aumento su tutto il territorio della massima precipitazione giornaliera per la stagione estiva e autunnale questo è importante soffermarsi un attimino sul concetto di massima precipitazione giornaliera perché questo indice è l'indice che ci rappresenta quell'evento estremo un aspetto potrebbe essere considerare i 500 mm di pioggia in un anno tutta la quantità che cade in un anno in un territorio come il territorio dell'Italia diverso invece sapere quanti sono i millimetri d'acqua che cadono in un giorno quindi massima quantità che possa cadere ed è questa quella che vogliamo andare a guardare per studiare gli eventi estremi in questo caso vi ho riportato uno scenario il 4.5 che è lo scenario in cui si ha un leggero la diminuzione non è lo azzeramento ma si ha comunque una diminuzione delle emissioni in futuro e si vede in questo caso che abbiamo un aumento dell'RX1D quindi la quantità massima di precipitazione giornaliero nel periodo considerato le 4 immagini dell'Italia sono le 4 immagini di fatto in 4 periodi dell'anno dicembre gennaio febbraio e così via si vede come tra marzo aprile e maggio abbiamo una diminuzione delle precipitazioni in questo scenario invece ha un aumento come dicevo prima in inverno per il nord d'Italia se invece ci spostiamo nello scenario peggiore quello business as usual quindi non riduciamo le nostre emissioni continuiamo a emettere come abbiamo emesso negli anni passati vediamo che si ha un aumento delle precipitazioni intense quindi stiamo guardando solo il caso in cui la massima precipitazione giornaliera e si vede come in tutto il nord d'Italia quasi in tutto l'anno si ha questo aumento di osservare una quantità d'acqua che cade giornalmente giorno in cui cade la maggior quantità d'acqua che è appunto molto elevata questo immagini sono eventi registrati in Italia nel 2011 le ho riportate per dare un po' rappresentare quali sono le tipologie di evento di cui stavamo parlando precedentemente cioè gli eventi estremi sono proprio quelli che vediamo qui riportati ovvero in una due ore cadono 100 150 180 millimetri d'acqua quella quantità d'acqua è molto localizzata quindi come si vede da queste mappe si ha una caduta dell'acqua molto localizzata molto intensa il sistema non è in grado di assorbirla e quindi si osservano allagamenti e quindi danni porto un altro esempio di qualche anno fa nel sud Italia si vede la cosa che mi interessava farvi notare è come a distanza di pochi chilometri si osservano una caduta una precipitazione di acqua di 232 millimetri rispetto ai soli 30 millimetri questo per dire che cosa per dire che sono eventi questi eventi estremi molto intensi molto localizzati con estremo accuramente possiamo però statisticamente vedere come questi Marcello scusa ti abbiamo perso per due secondi puoi un attimo ripetere proprio due secondi adesso mi sentite sì sì perfetto scusate stavo semplicemente sottolineando come questi eventi estremi sono spazialmente molto concentrati quindi in un luogo territorialmente molto limitato cade una quantità d'acqua molto elevata la capacità di determinare con esattezza spazialmente dove questi eventi accadranno è molto difficile però sappiamo proprio che a livello statistico questi eventi molto estremi molto localizzati molto intensi stanno capitando sempre più frequentemente e così avverrà anche in futuro questo aspetto che cosa perché per il territorio italiano è molto importante perché è un sono dei fenomeni che vanno a colpire quei fiumi o bacini ideografici molto molto piccoli quindi non interessano tanto i grandi fiumi o i grandi bacini ideografici quindi queste precipitazioni così intense di due o tre ore non sono un problema per fiumi come il Po il Tevere l'Arno che tre ore di fortissima pioggia intensa non gli cambia sensibilmente la loro quantità d'acqua presente nei fiumi cosa diversa invece per piccoli torrenti per piccoli fiumi ecco che in quel caso precipitazioni così intense creano immediatamente un problema un rischio di allagamento il territorio italiano è ricco di questi piccoli bacini e il nostro settore anche di esposizione le nostre città sono costruite molte su questi piccoli torrenti quando dico piccoli sono relativamente possiamo pensare al Bisagno a Genova il Seveso a Milano sono fiumi che hanno una lunghezza di qualche decina di chilometri e dal momento in cui piove molto intensamente al momento in cui osserviamo la fuoriuscita dell'acqua e gli allagamenti passano pochissime ore diverso invece è se andiamo a prendere fiumi come il Polar o il Tever in cui i processi di evoluzione di creazione dell'onda di piena sono molto più lunghi e impiegano più giorni qui ho cercato di riassumere un po' siamo partiti nella presentazione precedente di Marco in cui raccontava i modelli che noi utilizziamo meteoclimatici a livello globale a livello più locale per stimare come globalmente il nostro sistema climatico il sistema climatico della Terra funziona poi dobbiamo passare ai modelli idrologici che stimano appunto la probabilità di precipitazione quindi quanta la quantità e comunque intensità con che frequenza la precipitazione avverrà dopodiché studiamo i modelli idraulici ovvero come l'acqua una volta caduta sul nostro territorio si propaga verso valle e come potete immaginare rispetto all'osservazione precedente i modelli idrologici per queste tipologie di eventi estremi sono molto importanti perché noi abbiamo la creazione delle aree allagate immediatamente subito dopo che avvengono le precipitazioni non abbiamo un fenomeno un significativo fenomeno di trasporto verso valle come invece potremmo averlo per un'onda di piena che parte da Torino e arriva a Venezia lungo il Po ma fino a qui noi ci siamo fermati a studiare il fenomeno naturale che potrebbe colpirci una volta nota l'acqua che può colpire il nostro territorio è importante studiare tutto ciò che è esposto e tutto ciò che è potenzialmente vulnerabile solo e quindi qui siamo alla fine della catena vediamo appunto possiamo stimare il rischio ovvero la probabilità di avere un danno un evento avverso che possa colpirci quando parliamo di esposizione quindi ritorniamo un po' al concetto iniziale ci sono sicuramente tanti diversi livelli di esposizione sicuramente le vite umane tutte le sue ramificazioni e oppure in questo caso quando si parla di eventi estremi la vita umana è sicuramente uno degli elementi più esposti perché in molti casi osserviamo perdite di vite umane in casi di molto estremi e molto veloci a differenza invece di e in questi casi sono abbastanza contenuti come a livello spaziale singoli quartieri di una città piuttosto che piccoli paesi a differenza di grandi alluvioni dove il fenomeno di allagamento è più lento tendenzialmente le persone fanno in tempo a salvarsi ma l'aria esposta l'aria estesa è molto grande i danni osservati sono danni economici soprattutto alla perdita dei raccolti ai danni agli edifici ma infine occorre lavorare sulla vulnerabilità ovvero una volta che l'elemento è stato colpito ecco è stato colpito dall'acqua qual è la possibilità la probabilità di avere un danno un evento avverso e qui abbiamo la connessione tra evento e danno qui l'immagine è giusto per ricordare come la pioggia può avvenire se io ho attuato delle misure di mitigazione nel caso apro l'ombrello non mi bagno è ovvio in un sistema come una società non è così semplice come aprire un ombrello ma esistono una serie di misure che possono essere attuate al fine di ridurre la propria vulnerabilità e quindi ridurre la vulnerabilità soprattutto in un contesto come quello che abbiamo visto di cambiamenti climatici che sempre di più ci porteranno ad osservare queste precipitazioni molto molto intense se sempre più frequentemente chiudo con l'ultimo aspetto che volevo sottolineare nella mia presentazione è il ruolo del suolo in particolare dell'urbanizzazione qui è uno schema semplice per rappresentare come per ogni goccia che cade sul terreno si ha una separazione parte di questa quantità d'acqua verrà infiltrata nel terreno e parte defluirà in superficie ecco la parte che defluisce in superficie è quella che andrà a determinare l'alluvione sicuramente questi fenomeni estremi e veloci questo processo superficiale è molto molto veloce è difficile in tempo reale seguire quel fenomeno bisogna sicuramente agire in precedenza per far sì che questo avvenga il ruolo che ha il processo di urbanizzazione quindi di trasformazione di un suolo permeabile in suolo non permeabile ha due fattori genera due conseguenze principali una l'aumento di quantità che rimane in superficie quindi il numero di auto presenti e quindi il numero di gocce che andranno a costituire l'alluvione sarà sempre maggiore e secondo la velocità con cui l'acqua scorre su una superficie urbanizzata è sicuramente più alta rispetto alla velocità d'acqua in un ambito non urbanizzato questi due fattori aumentano ancora di più il processo di creazione di fenomeni come l'allagamento prima di passare la parola alla seguente presentazione un recap velocissimo di quello che abbiamo visto sull'impatto che il cambiamento climatico ha sul rischio idrogeologico abbiamo visto come ci saranno nell'arco completo dell'anno meno piogge sul territorio italiano ma queste saranno sicuramente più estreme quando avverranno avverranno con molta più intensità molto intense ma anche molto molto localizzate questo ci porta a dire la difficoltà che abbiamo nel poter determinare esattamente dove avverranno ne abbiamo visto poi i modelli molto velocemente per poco tempo di esposizione di tutta la catena che ci porta dallo studio del clima allo studio del rischio a livello locale e quanto è necessario e importante agire sia sull'esposizione e agire sulla vulnerabilità in particolare un focus sull'urbanizzazione per far sì che questi rischi siano sempre possiamo in qualche modo gestirli e mitigarli dove possibile vi ringrazio e lascio ora la parola a Beatrice Buonasera a tutti spero che vediate lo schermo e la presentazione per quanto mi riguarda partirò dagli spunti che vi hanno dato i miei colleghi per passare agli effetti e alle conseguenze che gli eventi estermi descritti avranno sul nostro giardino o meglio sul settore agricolo infatti come hanno detto in precedenza i miei colleghi avremo in futuro un aumento generale delle temperature questo a livello globale una diminuzione dei giorni di pioggia leggera ma un aumento delle piogge particolarmente intense e inoltre avremo un aumento delle ondate di calore quindi di quei periodi in cui le temperature sono molto elevate inoltre si avrà anche un aumento della durata di questi periodi con temperature particolarmente elevate delle cosiddette ondate di calore questo comporta un aumento dei rischi sul settore agricolo a che cosa è legato il rischio in agricoltura ovviamente alla pericolosità che è legata all'aumento delle temperature e all'aumento degli eventi estremi all'esposizione cioè alle aree geografiche in cui sono presenti determinate coltivazioni e alla vulnerabilità che dipende dalle caratteristiche intrinseche delle coltivazioni per esempio ci sono delle coltivazioni che resistono meglio alla siccità e delle altre che invece iniziano immediatamente a rendere di meno quindi a calare la loro produttività in mancanza di acqua quali sono le conseguenze di tutto quello che abbiamo visto sul settore agricolo sono diverse la prima e più immediata che si può pensare è una variazione nella produttività delle coltivazioni quindi nel raccolto per la stessa superficie di terreno coltivata prendiamo per esempio un ettaro si avrà un cambiamento nella produzione non è detto che questa variazione nella produzione sia necessariamente negativa potrebbe essere anche un aumento della produttività della coltivazione avremo delle variazioni nelle date di semine raccolto delle coltivazioni perché se le temperature per esempio aumentano avremo dei mesi non lo so per esempio il mese di febbraio sarà più caldo e sarà possibile seminare determinate coltivazioni già a febbraio avremo una variazione della distribuzione geografica delle coltivazioni che è sempre legata alla variazione delle temperature avremo poi una variazione nella distribuzione geografica e negli habitat dei parassiti e delle piante infestanti e delle coltivazioni tutte queste variazioni possono essere in entrambi i sensi sia in diciamo possono dare sia degli effetti negativi che degli effetti positivi sul settore agricolo vediamo in concreto alcuni esempi cominciamo con il considerare un prodotto tipico del territorio italiano cioè l'olio d'oliva che cosa cambierà nella produttività degli olivetti consideriamo prima uno scenario business as usual che come ci ha descritto Marco è uno scenario in cui le emissioni di anidride carbonica continueranno come continueranno come livelli attuali in questo scenario nelle aree di coltivazione degli olivi possiamo notare come si avranno degli incrementi nella produttività degli olivi nelle zone meridionali della Puglia e nell'area di Messina mentre si avranno delle riduzioni nella produttività degli olivetti nelle zone dell'Umbria della parte settentrionale della Puglia della Campania della Calabria e nella parte occidentale della Sicilia questa è una proiezione al 2050 se passiamo al 2070 sempre nello stesso scenario emissivo possiamo vedere come in tutte le aree di coltivazione dell'olivo si avranno dei cali nella produttività che potranno variare tra lo 0 e il 40% nelle zone dell'Umbria della Puglia e della Calabria ma potranno essere anche più consistenti fino all'80% nelle zone occidentali della Sicilia pensiamo invece di metterci in uno scenario in cui si ha una riduzione delle emissioni quindi quello che era lo scenario RCP 4.5 che ci ha fatto vedere Marco in questo caso al 2050 la produttività degli olivi potrebbe aumentare in alcune aree dell'Italia quindi l'Umbria e le province la parte più meridionale della Puglia e ancora la zona di Messina sempre nello stesso scenario di riduzione delle emissioni al 2070 si avrà una situazione che sarà più o meno analoga a quella del 2050 con la sola zona del centro Italia Umbria in cui al posto che avere un aumento della produttività degli olivetti si avrà un leggero calo è uno scenario molto diverso rispetto a quello del 2070 business as usual in cui si avranno dei cali consistenti in tutte le aree di produzione dell'olivo e questo è già un primo segnale della necessità di ridurre in qualche modo le emissioni per le emissioni spostiamoci a una coltivazione tipica della provincia di Pavia per esempio il riso consideriamo che la Lomellina una zona della provincia di Pavia da sola ha circa 80.000 ettari coltivati a riso l'impatto del cambiamento climatico su quest'area è assolutamente interessante per quanto riguarda la coltivazione del riso se ci poniamo nel scenario che abbiamo già descritto prima business as usual in cui le emissioni continueranno con il trend attuale già nel 2030 che è un periodo vicinissimo perché stiamo parlando di meno di 10 anni avremo un calo del 18% nella produttività del riso e al 2070 potremo arrivare addirittura ad un calo del 32% nella produttività del riso e questo sarà legato sostanzialmente ad un decremento delle precipitazioni infatti il riso è una coltivazione che necessita di parecchia acqua per poter crescere e nelle zone di pavia viene addirittura coltivato per sommersione ma se invece ci poniamo in uno scenario di zero emissioni possiamo notare come nel prossimo futuro quindi nel 2030 ci sarà addirittura un aumento nella produttività del riso infatti in uno scenario di zero emissioni quindi supponendo di annullare le emissioni di anidride carbonica inizialmente avremo comunque un leggero aumento delle temperature questo leggero aumento delle temperature accompagnato all'incremento nella concentrazione di anidride carbonica presente nell'atmosfera favorisce la crescita del riso al 2070 anche in uno scenario di zero emissioni avremo delle riduzioni nella produttività del riso che saranno comunque inferiori rispetto a quelle che avremmo in uno scenario business as usual nello stesso periodo ancora una volta anche per il settore agricolo è importante che i trend generali di emissione vadano verso una progressiva riduzione vediamo ora invece l'impatto che le ondate di calore cioè quegli eventi di elevata temperatura che permane anche solo per 3 o 4 giorni possono impattare i raccolti questa è un'analisi a livello globale che prende in considerazione tre delle principali coltivazioni il mais il frumento e il riso nell'anno zero cioè l'anno in cui avviene l'ondata si verifica l'ondata di calore possiamo notare una netta diminuzione dei raccolti di mais una leggera diminuzione rispetto alla norma che in questo caso è rappresentata dalla linea nera in corrispondenza dell'uno per quanto riguarda i raccolti di frumento e una diciamo diminuzione del raccolto di riso che però non è significativa questo è legato a quella che prima abbiamo definito come per esempio la vulnerabilità delle coltivazioni ci sono alcune coltivazioni che sono più vulnerabili all'elevata temperatura oppure che vengono coltivate in periodi più avanzati della stagione e che quindi sono più esposte al rischio di ondate di calore se ci spostiamo ora e proviamo a guardare l'impatto del cambiamento climatico sulle date di semina possiamo considerare un esempio come esempio il frumento in questo caso essendo l'analisi stata condotta a livello europeo il tipo di frumento considerato è il frumento primaverile cioè quel frumento che viene seminato tendenzialmente intorno a marzo e viene raccolto all'inizio dell'estate consideriamo uno scenario di riduzione delle emissioni e il periodo che va dal 2030 al 2060 con una data di semina tradizionale quindi una semina a marzo possiamo vedere come tra il 2030 e il 2060 rispetto al raccolto del 2010 si avrebbe un cambiamento in negativo cioè una riduzione tra lo 0 e il 25% nelle zone dell'Italia della Spagna del Portogallo e della Francia in parte della Francia mentre avremo un aumento del raccolto nelle zone della Germania e del Regno Unito una semina anticipata cioè una semina in febbraio che sarà comunque un mese più caldo rispetto alla norma che siamo abituati perché le temperature abbiamo detto che le temperature aumenteranno a livello globale una semina anticipata ci farebbe ci fa vedere come in pratica si avrebbe un aumento o una stabilizzazione del raccolto in tutta Europa nella Spagna in tutta l'Italia e nella Francia e anche nella Germania fa eccezione il Regno Unito in cui essendo il Regno Unito più a nord anche a febbraio potrebbe febbraio potrebbe essere ancora troppo freddo per la semina della coltivazione mentre una semina ritardata in aprile ci porterebbe a cali riduzioni di raccolto tra lo 0 e il 25% sostanzialmente in tutta Europa con punte di riduzioni tra il 25 e il 50% in alcune aree della Spagna e nelle zone più meridionali della Grecia un altro effetto del cambiamento climatico è quello del cambiamento delle aree geografiche idonee per determinate coltivazioni consideriamo per esempio la vite e quindi i vigneti altro prodotto altra coltivazione tipica dell'Italia in uno scenario attuale quindi nel periodo compreso tra il 1950 e il 2000 le aree idonee dal punto di vista climatico alla coltivazione della vite sono quelle evidenziate in nero nella mappa rappresentata in uno scenario business as usual già al 2020 possiamo notare una variazione delle aree idonee dal punto di vista climatico alla coltivazione della vite infatti possiamo notare come le aree idonee si spostano verso nord con un'estensione verso la parte più settentrionale della Germania quasi verso la Danimarca e si nota una riduzione delle aree idonee alla coltivazione della vite in paesi come l'Italia e nella parte meridionale della Spagna sempre nello scenario business as usual al 2040 possiamo notare come in Italia praticamente non rimangono quasi più aree idonee dal punto di vista climatico alla coltivazione della vite mentre abbiamo delle aree più a nord che sono idonee alla coltivazione della vite in uno scenario di riduzione delle emissioni quindi quello che in precedenza abbiamo definito come RCP 4.5 la situazione è molto meno drammatica al 2020 abbiamo sì un leggero spostamento di alcune aree idonee alla coltivazione della vite verso nord ma in Italia rimangono comunque delle aree significative idonee alla coltivazione e lo stesso possiamo dire al 2040 anche se notiamo il fatto che le aree idonee alla coltivazione della vite in Spagna sono praticamente scomparse mentre ne rimangono alcune in Italia ma decisamente di meno che se riuscissimo a contenere le ma decisamente di meno rispetto a quelle attuali un ulteriore effetto dell'aumento delle temperature è legato alla distribuzione geografica dei parassiti e al periodo temporale in cui questi parassiti compaiono se ci spostiamo dal contesto europeo e proviamo a pensare a un prodotto di consumo praticamente giornaliero per quasi tutti cioè il caffè possiamo vedere che attualmente il caffè è esposto al rischio di questo parassita lo scarafaggio del caffè che produce dei danni a livello globale molto ingenti perché perfora il frutto del caffè e ne mangia all'interno rendendo quindi il caffè assolutamente inutile dal punto di vista dell'alimentazione umana attualmente questo parassita nell'Africa orientale nelle aree di maggior densità di questo parassita nell'Africa orientale sono concentrate attorno al lago vittoria e in questa parte del Congo in uno scenario di business as usual possiamo vedere che le aree in cui la densità di questo parassita è alta aumentano oltre a quelle attorno al lago vittoria abbiamo delle aree quelle rosse e arancioni in cui la densità del parassita è elevata che sono tutte le coste della Tanzania all'interno della Tanzania tutta una buona parte di questa parte del Congo e tutte le aree a nord del lago vittoria se invece attuassi una riduzione delle emissioni al 2050 la densità di questo parassita sarebbe addirittura ridotta rispetto alla situazione del 2010 in alcune aree perché per esempio le aree attorno al lago vittoria che attualmente sono ad alta densità di questo parassita la densità andrebbe verso valori più bassi ci sarebbe sì un aumento della densità del parassita in queste aree dell'Etiopia quelle in giallo che però sarebbe compensato dalla diminuzione delle aree in rosso negli altri stati inoltre possiamo osservare un altro esempio per quanto riguarda la distribuzione geografica dei parassiti che è quello legato alla tignola della patata questo parassita che è una specie di farfallina scava delle gallerie all'interno della patata e la mangia dall'interno quindi rendendola di nuovo non più vendibile o utilizzabile per l'alimentazione umana attualmente la distribuzione la presenza di questo parassita in Europa è tendenzialmente bassa fatto salvo per alcune aree della Spagna e del Portogallo in uno scenario di stabilizzazione delle emissioni quindi quello che abbiamo considerato come RCP6 la presenza di questo parassita che inizia a manifestarsi intorno ai 13 gradi di temperatura quindi cresce quando le larve crescono quando la temperatura raggiunge i 13 gradi la presenza di questo parassita in uno scenario di stabilizzazione delle emissioni aumenterebbe passerebbe da bassa a media in tutta Italia in buona parte della Francia diventerebbe addirittura alta in Spagna e Portogallo questo causando dei notevoli danni al raccolto di patate infine cambierà la distribuzione geografica delle piante infestanti e l'areale di diffusione di queste piante potrebbe aumentare consideriamo per esempio questo tipo di sorgo sorgum alpense chiamata anche sorghetta che è una pianta che infesta per esempio i campi di mais questa pianta in uno scenario di business as usual negli Stati Uniti aumenterebbe la sua diffusione verso nord perché le temperature aumenterebbero verso il nord quindi avremmo rispetto all'areale storico di diffusione della pianta quello in grigio chiaro avremmo un aumento dell'areale di diffusione della pianta verso le zone in grigio scuro al 2030 e in nero al 2084 questo per dire cosa? Che gli effetti del cambiamento climatico sull'agricoltura sono svariati possono essere positivi abbiamo visto che a breve termine potremmo avere un aumento dei raccolti potremmo anticipare le date di semina e un anticipo delle date di semina significa anche un anticipo del raccolto che potrebbe dare la possibilità di seminare sullo stesso terreno una coltivazione successiva ci saranno delle nuove aree idonee alla crescita di alcune coltivazioni quindi per esempio sarà possibile coltivare la vita in Germania altri effetti sono negativi per esempio ci sarà un calo dei raccolti sul lungo termine al 2070 sarà necessario aumentare l'irrigazione per fronteggiare lunghi periodi di assenza delle precipitazioni ci saranno delle aree geografiche che non saranno più idonee per la crescita di alcune coltivazioni tradizionalmente presenti e aumenteranno le aree geografiche idonee alla sopravvivenza di parassiti e piante infestanti che notoriamente prosperano con temperature più elevate questa è giusto una panoramica per darvi un'idea di quello che potrebbe essere l'impatto del cambiamento climatico sul settore agricolo è ovvio che poi ci possono essere molti altri aspetti da approfondire intanto vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola ad Anna Cerniglia grazie grazie a tutti voi che ci avete fatto queste presentazioni molto interessanti che hanno diciamo riguardato tanti aspetti di quello che è il cambiamento climatico in un'ottica veramente multidisciplinare che ci ha permesso di allargare la nostra conoscenza e nel mio caso vi ringrazio ha chiarito anche molti punti di partenza che hanno permesso poi di seguire anche le relazioni sia di Beatrice che di Marcello quindi ringrazio anche Marco per tutto quello che è stato detto oggi per la premessa importantissima che ci ha permesso di comprendere meglio a questo punto direi che sono arrivate otto domande e ve le leggerei una a una e poi chi di voi vuole rispondere mi fa un cenno e io lascio la parola allora Enrico Bergonzi buonasera sono Enrico Bergonzi presidente del comitato attenti al Ticino e professionalmente mi occupo di agricoltura sono coinvolto per entrambi gli aspetti alluvioni perché è residente in zona risondabile agricoltura perché professionalmente gestisco una società di consulenza agricola e conosco perfettamente il problema abbiamo già interagito con voi la volta scorsa scusate sarebbe auspicabile per noi avere un indirizzo di riferimento per poterci interfacciare al fine di capire come possiamo collaborare esservi utili e utilizzare a nostra volta i risultati dei vostri studi per difendere la popolazione di Pavia esposta a rischio alluvionale il nostro interesse principale è proprio rivolto ai programmi di protezione e mitigazione bene il dottor Bergonzi aveva già era già intervenuto al precedente incontro e aveva espresso interesse ora chiedo a Marcello in modo particolare e a Beatrice di rispondere in termini di collaborazione rispetto a quello che il dottor Bergonzi chiede e prego Beatrice ti vedo pronta allora per quanto riguarda ho avuto modo di leggere le domande del dottor Bergonzi riguardo alla parte coltivazioni e mi riferisco sostanzialmente a quelle per quanto riguarda allora andiamo con ordine la prima domanda riguardava l'aumento delle coltivazioni arbore policicliche quando mi piacerebbe capire un attimo in che senso intende il dottor Bergonzi dire che effetti possono avere alcune scelte culturali come ad esempio l'aumento delle coltivazioni arbore policicliche perché non mi è chiaro questo sul cambiamento climatico non dovrebbe avere degli effetti particolari semmai il cambiamento climatico che potrebbe influire sulle coltivazioni arbore policicliche che però sono coltivazioni a ciclo molto breve che quindi a mio parere rischierebbero di essere particolarmente soggette ad eventi estremi se questi eventi dovessero verificarsi nel periodo di coltivazione e quindi rischierebbero di esserci dei danni particolarmente ingenti su un raccolto molto breve un evento estremo potrebbe avere degli effetti abbastanza consistenti e ridurre in maniera notevole il raccolto per quanto riguarda la seconda domanda quali effetti possono avere queste coltivazioni arbore nell'ottica di catturare maggiori quantitativi di CO2 sicuramente il fatto di piantare delle coltivazioni aiuta a ridurre la presenza di anidride carbonica in atmosfera il problema successivo è poi cosa ne viene fatto di queste coltivazioni perché se queste coltivazioni sono utilizzate per esempio per produrre biomassa da riscaldamento quindi vengono bruciate è ovvio che l'effetto viene diciamo compensato si può arrivare a una carbon neutrality quindi zero emissioni perché le emissioni catturate dalla pianta durante la vita sono quelle che poi sono riemesse al momento della combustione della pianta diciamo che questa è una delle risposte possibili per quanto riguarda la plausibilità di scenari a zero emissioni penso di poter lasciare la parola a Marco esatto allora sì questa la prendo io e poi mi aggancio anche a un'altra allora mi aggancio all'ultima cosa che ha detto adesso Beatrice riguardo la possibilità di fare cattura di CO2 attraverso colture e e anche diciamo azioni di afforestamento eccetera io non sono uno specialista del campo perché io sono un fisico appunto mi occupo soprattutto della fisica in generale come dire le cosiddette green infrastructure se vogliamo anche appunto l'afforestamento è sicuramente un buono strumento per catturare CO2 quindi rimuovere CO2 dall'atmosfera e quindi mitigare insomma il cambiamento climatico ma come dire non è un'opzione che può risolvere il problema proprio perché come diceva per esempio Beatrice innanzitutto bisogna vedere queste coltivazioni che fine fanno le foreste purtroppo bruciano come abbiamo visto e quindi magari una foresta che ci ha messo 50 anni a crescere e a immagazzinare CO2 poi la rilascia in poche ore e in generale comunque lo sforzo necessario per rimuovere la CO2 in eccesso è molto più grande rispetto a quello che potrebbe venire solo da questo tipo di azioni quindi il problema è molto più importante la prima cosa da fare è mettere a zero le emissioni e poi trovare delle tecnologie efficienti per sostanzialmente rimettere sottoterra quello che era sottoterra perché il problema è che noi abbiamo tirato fuori dal suolo quello che si è immagazzinato in milioni di anni e lo stiamo bruciando in poche decine di anni quindi la soluzione per tornare a questo tipo di come dire tornare indietro è rimettere sottoterra la CO2 sostanzialmente e ci sono delle tecnologie promettenti sulla plausibilità degli scenari a zero emissioni gli scenari a zero emissioni sono possibili vi segnalo un report che si chiama Mission Possible ed è a cura della Energy Transition è una commissione Energy Transition Commission che è composta non solo da accademici ma anche da rappresentanti dell'industria in cui sostanzialmente è un rapporto che illustra come si possa decarbonizzare l'economia a prezzi tra virgolette ragionevoli qualche punto di PIL quindi come dire si può fare se sia plausibile aspettarci uno scenario a zero emissioni io purtroppo questo non lo posso dire non lo so perché questo dipende dalle scelte politiche dei decisori politici per cui come dire il nostro compito è illustrare un po' le soluzioni che sono innanzitutto mettere in evidenza il problema magari proporre delle soluzioni ma poi sono i decisori che decidono e scusate io avevo visto anche un'altra domanda a questo punto così rispondo anche a questa di Anonymous Attendee che ci chiedeva riguardo alla presentazione di Marcello scenari di giornaliera su scala italiana volevo sapere se conoscete l'esistenza degli studi su scenari di precipitazione almeno RC45 8.5 su scala regionale in particolar modo toscana o meglio ancora su scala locale su grandi bacini idrografici eccetera quindi una sorta di damoschene degli scenari europei allora io onestamente non lo so nel senso che ci sono sicuramente di scenari di modellistica regionale quindi a risoluzione piuttosto alta risoluzione piuttosto alta intendo tra i 10 e i 20 chilometri che sono disponibili su questo tipo di scenari su l'Europa e se se la domanda riguardava scenari a scala più fina e quindi veramente a scala locale io non non ne conosco ma il fatto che io non lo sappia non significa che non esistano quindi non so se Marcello ha qualche informazione allora a livello generale aggiungerei che più scendiamo di scala più è difficile quindi la scala ridotta e una risoluzione più alta diventa sempre più difficile fare delle delle previsioni accurate in particolare se si parla di precipitazioni questo a livello appunto come indicazione generale credo comunque su bacini grandi come come l'Arno come il Po anch'io non conosco con esattezza se sono già stati fatti però credo mi verrebbe a dire di sì poi l'affidabilità dei risultati su scale così locali rispetto a invece i risultati che abbiamo mostrato oggi c'è un'incertezza dei modelli di quei risultati che è ancora molto ampia diciamo che soprattutto in termini di precipitazioni come ho cercato di enfatizzare un po' nella presentazione gli effetti sono molto sugli eventi estremi localizzati di breve durata e di forte intensità che su grandi bacini fanno in tempo ad attenuare l'impatto poi di una probabilità di allagamento se invece la domanda era riferita intesa come precipitazioni medie del bacino durante tutto l'anno allora quello sicuramente è più facile con minore incertezza stimare gli scenari futuri io personalmente non conosco ma secondo me su bacini di dimensioni dall'arno in su secondo me qualcosa in letteratura si può trovare nel caso se ci contatta possiamo suggerire qualcosa qualche documento più relativo al momento adesso non mi sovvengono ok scendiamo alle domande di Enrico Bergonzi abbiamo già risposto a tutte credo di sì mi sembra che le ultime due si riguardino sempre la possibilità di utilizzare le coltivazioni come il carbon storage quindi direi che forse quella no no ma siamo siamo d'accordo che è una soluzione possibile sempre rispondendo a Enrico Bergonzi nel senso è una soluzione è uno strumento non credo direi che non è uno strumento risolutivo non so cosa ne pensano Marcello e Beatrice ma esatto secondo me il termine che hai detto adesso non è un elemento risolutivo secondo me è un po' la chiave di quando si parla del cambiamento climatico non esiste un singolo elemento risolutivo cioè è un problema molto complesso e molto interconnesso il singolo attore da Bill Gates al singolo cittadino non possono risolvere il problema del cambiamento climatico né l'industria del cemento né l'industria dell'agricoltura né i cittadini italiani è veramente un problema che va affrontato in tutti i settori quindi dalle emissioni dei trasporti a come si costruiscono le case a come si si fa agricoltura nel nuovo millennio dalla nostra alimentazione dai nostri stili di vita come di cittadini quindi tutti questi insieme devono interagire e qui io do il mio parere personale quando la domanda dottor Bergonzi chiedeva sono plausibili proprio per proprio per questa necessità che tutti questi settori tutti questi attori devono agire contemporaneamente che la mia risposta a me viene da rispondere non sono plausibili nel breve periodo nel breve periodo intendo 10-20 anni in 10-20 anni secondo me non sono plausibili motivo in più per accelerare tutte le indicazioni che ormai da diversi anni tutta la comunità scientifica da 20 anni ormai anche la comunità politica perché da Parigi nel 2015 ormai anche la comunità politica ormai ha riconosciuto la necessità ebbene siamo ancora lenti ma proprio perché è un problema sistemico un problema dove tutti gli attori e tutti i settori devono agire quindi le soluzioni che proponeva Doso Bergonzi in quel particolare settore sono importanti e bisogna perseguirle non sono le uniche e ad aggiungere era interessante quello che diceva Beatrice nel senso ok per seguire una soluzione pensiamo però poi le finalità quindi se facciamo delle ipotizziamo delle soluzioni erbacee adesso non è il mio settore coltivazione erbacee ma poi le utilizziamo per altri scopi è chiaro che dobbiamo pensare a tutto il ciclo quindi in ottica sistemica in ottica di ciclo competo delle varie azioni bene mi sembra io credo che se posso aggiungere solo una frase che credo che il concetto chiave sia decarbonizzare tutto il ciclo produttivo complessivo perché ovviamente ogni singola azione ha un viene un esempio che è un po' un classico negli anni 80 ci sono state molte iniziative soprattutto in Europa in America del Nord per la riduzione per esempio degli inquinanti delle industrie solfati per esempio che erano diciamo erano orientate al miglioramento della qualità dell'aria nelle città sono delle politiche che hanno effettivamente avuto successo perché adesso la qualità dell'aria nelle città soprattutto nelle città industriali è molto migliorata ma per esempio questo tipo di emissioni è un'emissione che ha la capacità sono dei composti chimici che hanno la capacità riflettente della radiazione solare per cui ridurre questo tipo di emissioni senza ridurre la CO2 sostanzialmente ha amplificato il riscaldamento dell'emisfero nord perché quindi questo qui diciamo mostra come non si può spegnere un interruttore da una parte e non dall'altra parte è un'azione complessiva che va fatta sull'intero sistema produttivo l'intero intendo globale ecco abbiamo ancora una domanda del dottor Spallarossa buongiorno sono l'ingegnere Spallarossa ci stiamo occupando della vulnerabilità all'unione di alcune zone di Pavia avremo esperienze da portarvi e domande da fare su casi concreti come potremmo interagire appartengo allo stesso comitato del dottor Bergonzi sicuramente mi può contattare personalmente adesso non so se Anna vuoi lasciare un indirizzo oppure lascio il mio senza nessun problema comunque potete scrivermi a marcello.arosio chiocciolaiuspavia.it semmai rispondo anche nel Sì rispondi anche domande e risposte e poi volevo dire ad Enrico Bergonzi che se il mio indirizzo email è anna.cerniglia chiocciolaiuspavia.it e così posso inoltrare la registrazione che ha richiesto se lei può appuntarsi l'indirizzo comunque se avete richieste altre posso fare tranquillamente da veicolo con i nostri ricercatori Allora io mi permetterei di segnalare al dottor Bergonzi che all'OIUS stiamo facendo un lavoro per la stima degli impatti del cambiamento climatico sull'agricoltura e per questo stiamo chiedendo la compilazione di un questionario mirato alla valutazione degli impatti che appunto il clima e gli eventi estremi hanno sull'agricoltura se il dottor Bergonzi fosse disponibile a darci una mano sarebbe ovviamente un grande contributo e nel caso o attraverso Anna o in qualche modo sarei felice di girare il link del questionario Va bene se vuole se vuole contattarmi il dottor Bergonzi poi io faccio da tramite con la dottoressa Monteleone Io ho risposto in chat perché non so come mai non riuscivo a rispondere a domande risposte comunque in chat c'è il mio indirizzo mail nel caso oppure comunque anche sul sito dell'OIUS basta cercare Marcello Rosio e escono i contatti Bene se non ci sono più domande direi che possiamo concludere ringraziando i nostri relatori ringraziando anche i partecipanti che sono rimasti numerosi fino alla fine quindi anche dimostrando un grande interesse rispetto alle presentazioni vi terremo sicuramente informati dei prossimi appuntamenti abbiamo riscontrato il grande interesse nel giro di una settimana il 20 sempre sul cambiamento climatico 20 maggio oggi pure c'è stata una bella partecipazione quindi andremo sicuramente avanti anche su questa su questa linea e sui prossimi appuntamenti utilizzeremo i vostri indirizzi mail che avete che avete lasciato per l'iscrizione grazie mille a tutti e buona serata prima di chiudere prego Marco la conferenza sarà disponibile sul sito sul canale youtube della scuola la conferenza la metteremo sì sul canale youtube e comunque chi vuole può chiedere la registrazione e io la veicolo anche attraverso WeTransfer va bene grazie buonasera grazie a tutti buonasera arrivederci a voi grazie a tutti buonasera arrivederci buonasera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti